Gambugliano, il comune non va in rovina ma ha rischiato grosso, tutto a causa di un contenzioso con cui il paese di 840 anime è alle prese da quasi mezzo secolo. Si tratta del risarcimento danni per la mancata lottizzazione di Monte San Lorenzo che avrebbe cambiato volto alla piccola località. La Corte d'Appello però ha respinto la richiesta di 3 milioni e mezzo di euro che avrebbero mandato in fallimento le casse comunali.